Nuovo caso sospetto di coronavirus in Puglia. È quello di un uomo di una quarantina d'anni di nazionalità cinese attualmente ricoverato presso il reparto malattie infettive del Policlinico di Bari. Il paziente si è presentato questa mattina presso il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie con sintomi febbrili e disturbi gastrointestinali. L'uomo ha dichiarato ai medici di essere rientrato in Italia ai primi di febbraio dopo un viaggio nel suo paese d'origine. Il personale sanitario in linea con quanto previsto dal protocollo regionale in presenza di pazienti di ritorno dalle aree cosiddette endemiche ha subito predisposto il trasferimento dell'uomo presso la struttura sanitaria barese. Arrivato al Policlinico il paziente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso i cui risultati saranno resi noti nelle prossime 24 ore. Si tratta del secondo caso sospetto di coronavirus registrato nella provincia Bat nell'ultima settimana. L'ultimo cinque giorni fa quando una paziente con sintomi febbrili era stata trasferita dall'ospedale di Miccoli di Barletta al Policlinico. Gli esami eseguiti dopo il ricovero diedero esito negativo.